Vuoi un pc di fascia alta con prestazioni top e ingombri ridotti? Beh questo Geekom GT1 Omega potrebbe fare al caso tuo Ciao amici benvenuti in questo nuovo video oggi parleremo ancora di mini pc e lo faremo con il più potente dispositivo portato qui sul canale che con ingombri davvero ridotti ci permette di avere un processore ultra 9 185H con AI boost 32GB di RAM DDR5, 2TB di SSD NVMe veloce, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, supporto fino a 4 monitor con risoluzione che arriva fino all'8K, insomma un giocattolino serio ma prima di andarlo a vedere cari amici un po' più da vicino assolutamente supporto lasciate un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuna novità e commentate perché il vostro parere è importante e seguitemi su TikTok dove porto video, trucche e consigli in meno di un minuto per qualsiasi dubbio poi iscrivetemi su Instagram o tramite il mio canale supporto Telegram aiuto veramente tutti, i miei riferimenti li trovate sotto in descrizione dove trovate anche il mio nuovissimo canale Whatsapp dove posto chicche selezionate e interessanti ma cari amici non perdiamoci in chiacchiere andiamo a vedere più da vicino questo Geekom GT1 Mega la prima cosa che notiamo è la qualità del dispositivo che è completamente in metallo ed ha una miriade di porte la prima sensazione vedendolo è quella di un dispositivo di qualità e non potrebbe essere diversamente visto il costo dentro della scatola troviamo manuale multilingua è presente anche l'italiano anche se chi mi segue sa che vorrei fosse sostituito da un bel QR code pensiamoci veramente alla natura troviamo poi la staffa molto comoda con relative viti per il montaggio su attacchi VESA cavo HDMI per il collegamento al monitor ad esempio in dispositivi concorrenti ne ho trovati due di lunghezza differente questa cosa mi è piaciuta alimentatore da ben 120 Watt è compattissimo 19V 6.32 Ampere alimentazione che può avvenire anche dalla porta tipo C con un alimentatore Power Delivery da almeno 120 Watt abbiamo dimensioni molto contenute viste le specifiche ovvero 135 x 132 x 46.9 mm e un peso inferiore ai 700 grammi il case come dicevamo è interamente in metallo anche la colorazione mi piace sulla parte superiore poi non troviamo nessun adessivo del processore cosa molto strana questa ma a contrasto in rilievo c'è il logo del produttore le griglie di ariazione sono presenti nelle due parti laterali anche se l'aria esce solo dal retro frontalmente abbiamo 4 porti USB A 3.2 Gen 2 a 10 gigabit di cui la prima con la funzionalità Alway Zone che ci permette di poter alimentare i nostri dispositivi anche quando il pc è spento troviamo poi il jack da 3.5 mm dove ovviamente possiamo collegare sia cuffie che casse tasto di accensione che si illumina non c'è il tasto per il reset visto in molti competitor nella parte posteriore abbiamo connettore di alimentazione con jack proprietario due porte USB C 40 gigabit Thunderbolt 4.0 quindi uscita video e supporto fino all'8k questo ci permette anche di alimentare il nostro mini pc e di erogare energia in power delivery fino a 15 watt 5 volt 3 ampere abbiamo poi due porte HDMI risoluzione massima 4k 60 hertz sono le 2.0 supporto al HDR statico e non dinamico come per le 2.1 qui sinceramente mi si è rispettato di meglio abbiamo poi due porte di rete RG45 2.5 gigabit una porta USB A 2.0 e una porta USB A 3.2 Gen 2 a 10 gigabit sulla parte sinistra per la mia gioia troviamo un lettore di SD 4.0 che sicuramente farà piacere i fotografi e i content creator e infine sul lato destro abbiamo la porta Kensington per bloccare il nostro mini pc svitando queste 4 viti sotto questi piedini in gomma e rimuovendo questa placca di protezione facciamo attenzione alle antenne del wifi abbiamo accesso al cuore di questo pc dove notiamo i due slot per la RAM che quindi è upgradabile fino a 96 giga abbiamo poi due banchi da 16 giga crucial a 5.600 MHz DDR5 l'SSD dello stesso brand è un Gen 4 di buona qualità ma non top top infatti abbiamo circa 5.000 mega in lettura e 4.400 in scrittura le eccellenze arrivano e superano i 7.000 mega sotto questo SSD M.2 2280 poi trova alloggiamento il modulo wifi è un Intel BE200 parliamo di un wifi 7 quindi al top ed è stato lanciato nel terzo trimestre del 2023 abbiamo anche il Bluetooth 5.4 sotto questo punto di vista siamo ai vertici infine possiamo vedere lo slot M.2 Psi Express 4 usata è un 2242 per espandere ulteriormente la memoria e se si è un po' attenti si nota anche questi pin per il collegamento delle porte seriali RS232 e 485 oltre che altre due porte USB 2.0 all'avvio possiamo notare Windows 11 in versione Pro 23H2 ovviamente upgradabile al 24.2 come ho fatto io licenziato e soprattutto privo di qualsiasi fastidiosissima personalizzazione del produttore quindi niente software aggiuntivi e inutili installati dei 32 giga disponibili per il sistema ne potremmo sfruttare 31.5 quindi se non utilizzata per la scheda video verranno allocati solo 500 mega ovviamente cari amici non è una soluzione da gaming ma vanno fatte due considerazioni importanti la prima se ci si accontenta di qualche compromesso si può giocare anche a titoli impegnativi ovviamente a dettagli bassi e in full HD ad esempio 60-70 fps a Fortnite non ci sono problemi a farli in più potremmo usare anche la porta USB-C compatibile con il Thunderbolt 4.0 per le GPU esterne da acquistare a parte sì è vero non si avranno le stesse prestazioni di una soluzione collegata direttamente sulla scheda madre ma si ha un vantaggio non trascurabile sia nella modularità che nella trasportabilità voglio spendere pure due parole per chi come me ama le distribuzioni open source in questo caso ho avviato Ubuntu 24.04 il supporto è buono una live da USB si avvia senza problemi e le periferiche vengono correttamente riconosciute pur essendo che ne amici solo un primo avvio tutto sembra essere stabile e funzionare come si deve per capire prestazioni gestione del calore consumi elettrici bisogna fare dei test vi mostro i risultati di quelli che ho fatto io se riserviamo i risultati dello stress test relativo alla sola CPU che ricordiamoci essere uscita a fine 2023 notiamo che la frequenza media ruota intorno ai 3000 MHz e non si raggiunge mai il picco dei 5100 frequenza che ha delle oscillazioni tra la minima e la massima di circa 200 Hz quindi abbastanza stabile con temperature che vanno dagli 84 e 95 gradi con una media di 90 sappiamo che il limite di sicurezza consigliato da Intel per quanto riguarda la temperatura di esercizio nella sua piattaforma è di 110 gradi qui siamo un po' a limite ricordiamoci che il test però è stato effettuato con una temperatura ambiente di 20 gradi che è stata abilitata dal BIOS la modalità performance quindi quello che vi sto mostrando è il meglio che il nostro mini PC riesce a eseguire il sistema di estipazione poi si fa sentire forse un po' troppo ma montando questo mini PC dietro il monitor questa cosa sarà davvero mitigata e volendo possiamo scegliere altre due modalità dal BIOS per decidere di avere o il massimo silenzio o il massimo delle performance c'è anche la versione intermedia quindi c'è una modalità per tutte le esigenze inserendo nello stress test anche la GPU a pieno carico le frequenze del processore si abbassano oscillando parecchio tra i 1269 MHz e i 2666 con evidenti cali dovuti alle temperature temperature che oscillano tra i 67 e gli 85 gradi la GPU invece ha una frequenza media intorno ai 2200 MHz vicina a quella massima di 2350 per quanto riguarda la rumorosità il dispositivo è abbastanza silenzioso se non si chiede di fare cose impegnative a pieno carico si fa sentire ma solo quando è abilitata dal BIOS la performance mode per quanto riguarda invece il consumo elettrico generale il GT1 Omega è molto passimonioso per le prestazioni uso ufficio parliamo di 20-25 W e al massimo si sta sottricendo in media ricordiamoci che il dispositivo può essere alimentato anche tramite la porta USB-C a condizione che il caricatore soddisfi le specifiche minime alias sia power delivery da almeno 100 W 120 W penso sia meglio per quanto riguarda il BIOS non è complesso come avviene sulla scheda madre da gaming non ha molte impostazioni c'è però la voce power mode e da qui si può attivare la performance mode che fare in modo che il nostro mini PC si esprima al massimo delle sue performance ha senso farlo dipende da cosa si fa fare a questo mini PC per un blando lavoro di ufficio meglio impostarlo in normal o in quiet mode dove consuma meno corrente ed è sicuramente più silenzioso volendo usarlo con applicativi più pesanti e volendo anche sfruttare al massimo i 32 GB di RAM e oltre alla potenza del processore la performance mode invece va sicuramente attivata come al solito cari amici per giudicare un prodotto il prezzo sposta molto l'ago dalla bilancia questo dispositivo costa di listino a 1149 euro vi lascio il codice sconto sotto in descrizione il codice sconto che trovate anche nel mio canale Telegram tutti quanti i link sotto in descrizione il codice sconto che decurta il prezzo al 6% e cari amici avendo quindi un ulteriore vantaggio sicuramente il prezzo è impegnativo ed è un'ottima alternativa quando si vuole avere un dispositivo potente dalle dimensioni compatte che volendo può essere utilizzato anche con le GPU per avere ancora più d'utilità altro aspetto da considerare è che una dockstation di un noto produttore è stata resa open source aprendo ancora di più a scenari di utilizzo più spinti come il gaming dei giochi in AAA o l'esportazione dei video in 4K con Premiere Pro o similari ma veniamo cari amici al solito momento dei pro e dei contro di questo Geekom GT1 Mega tra gli aspetti positivi sicuramente compatto, elegante e con una scocca in alluminio consumo energetico irrisorio viste le prestazioni non si superano mai i 100 Watt si alimenta anche dalla porta USB di tipo C notazione di porte c'è anche il lettore SD tra i contro invece SSD non lento per amore del cielo ma non in linea con il costo la ventola si fa sentire quando lo spingiamo al massimo prezzo non per tutti per i cari amici il mio video termina qui mi raccomando condividetelo e fatemi sapere con un bel like se questo prodotto è stato di vostro gradimento noi ci vediamo in un prossimo contenuto mi raccomando attivate la campanella per non perdervelo un saluto dal mastro di YouTube e di TikTok che ha bisogno del tuo supporto per arrivare a 10.000 iscritti anche su Instagram ciao musica 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 Grazie a tutti.